ciao ho pensato che potessi essere affamato grazie hai portato delle patatine mi dispiace ma ho cercato di avvertirti dovevo aiutare spoiler a salvare le uova proprio non capisci se non riportiamo subito i draghi in questo mondo perderemo tutta la nostra magia i draghi vivevano qui? si questo è il loro luogo natio ma molto tempo fa la maga li confinò nell'altro lato del mondo senza rendersi conto che i draghi sono la fonte di tutta la nostra magia forse potrei convincere io i draghi a tornare se mi lasci andare mi dispiace non posso